Buonasera a tutte e a tutti, da parte dell'Istituto Gramsci Toscano e da parte dei nostri partner che sono diritta a sinistra di Firenze, CGL Toscana e il Centro per la Riforma dello Stato Toscana vi do il benvenuto sia alle persone presenti in sala che a chi ci sta seguendo in diretta streaming. Io oggi sono Mari Camacchi e sostituirò in maniera totalmente immeritata il professor Lombardi che purtroppo ha avuto problemi di salute e a cui auguriamo la nostra pronta garigione. Il pomeriggio di oggi per l'Istituto Gramsci si inserisce in quello che è un percorso che stiamo seguendo da alcuni anni ormai e che vede la centralità degli studi marxiani come strumento del dibattito per la comprensione di alcuni degli elementi sistemici che le crisi degli ultimi vent'anni ci hanno messo di fronte fondamentalmente. Negli incontri precedenti, negli anni passati, abbiamo avuto l'opportunità di discutere con il professor Galli e il suo Marx eretico abbiamo avuto il piacere di condividere la presentazione del libro di Amos Cecchi che in realtà è il vero deus ex machina di questa attività e di questo filone di discussione che il Gramsci sta portando avanti e in particolare il suo contributo è stato sul contributo del Suisi nel monopolio finanze nella crisi del capitalismo e lo scorso anno in cui purtroppo anche spinti da quelle che sono state le vicissitudini internazionali abbiamo incentrato la nostra riflessione su alcuni interventi che dialogassero sui conflitti armati come elemento sistemico del capitalismo stesso. Anche l'incontro di oggi prende le mosse da una recente pubblicazione, recente fra virgolette nel senso che è recentissima e appena uscita l'edizione italiana di un libro che in realtà viene già definito come un classico a livello internazionale nella lettura dell'analisi marxiana e che in lingua tedesca ha forse raggiunto la doppia cifra come numero di edizioni alla nona o decima di edizione. Il libro è La scienza del valore di Michael Heinrich, spero di averlo detto bene, ma ognuno lo presenta in maniera diversa e diciamo che ci colpisce e colpisce il dibattito pubblico perché porta avanti quella che potremmo definire una visione innovativa del lavoro di Marx, non perché ovviamente se ne sia inventato una parte ma perché l'autore in questione ha dedicato sia la propria intera ricerca accademica a una lettura critica dell'opera di Marx e soprattutto perché lo ha fatto cercando di problematizzare le tesi di Marx e di porle in confronto costante con quelli che sono gli apparati teorici anche più ortodossi dell'economia valorizzandone anche le contraddizioni quindi senza un appiattimento e senza anche uno sclerotizzarsi delle posizioni e dell'interpretazione di Marx che ogni tanto ci tocca vedere. L'uscita del libro ci ha dato la scusa per avere oggi con noi i nostri ospiti e in particolar modo il professor Bellofiore che insieme a Stefano Breda è stato il curatore dell'edizione italiana per la casa di Tricepi Greco e che oggi insieme a Tommaso Redolfi Riva e a Sebastiano Tacola ci porteranno diciamo un'introduzione alla discussione su questa particolare opera. Dunque i nostri ospiti ve li introdurrò io brevemente per lasciare loro la parola il professor Riccardo Bellofiore devo dirvi sono un po' in difficoltà a presentarlo perché credo lo conoscano tutti per cui ha iniziato la sua carriera all'università di Trento da lì è stato professore ordinario di economia politica a Bergamo e in ultimo ha insegnato anche storia del pensiero economico all'università di Modena e di Reggio Emilia è stato sicuramente un attore molto prolifico sia in termini di articoli su riviste sia in termini di saggi e volendo ricordarne alcuni tra gli ultimi troviamo le avventure della socializzazione per Mimesis Marx in attuale con Carla Maria Fabiani Euro al Capolinea con Francesco Garibaldo e Mariana Mortagua Smith Riccardo Marx e Sraffa e infine l'ultimo metro l'Europa tra crisi economica e crisi sanitaria con Francesco Garibaldo sicuramente i suoi saggi e il suo percorso di ricerca lo collocano senza dovermi in alcun modo provare a definirlo però fra i principali studiosi italiani nell'ambito degli studi sul marxismo con un interesse volto soprattutto alle teorie del valore della crisi in relazione al circuito monetario e alle tendenze del capitalismo contemporaneo il professore ci offre nella sua lettura della scienza del valore in cui all'interno del libro va detto c'è una corposa introduzione interessante tanto quanto poi il libro e sicuramente un punto di vista molto privilegiato che sfrutta sia una lente sulla storia dell'analisi economica che quella della filosofia dell'economia quindi una doppia lente che ci restituisce una lettura ancora più ricca rispetto all'oprica di Reindrich gli altri due relatori che sono con noi oggi sono il dottor Tomas Redolfi Riva che ha studiato filosofia e storia del pensiero economico presso l'università di Pisa e di Firenze si occupa in particolare della critica dell'economia politica marxiana e dei suoi esiti nei diversi marxismi e ha curato insieme a professor Bellofiore l'edizione italiana degli iscritti di Hans-Georg Backhaus e sempre insieme a professor Bellofiore ha appena fatto uscire un libro per Edward Elgar che è Marx K. Concepts infine, ultimo o non ultimo, Sebastiano Taccola ha studiato filosofia presso l'università di Pisa e la scuola normale superiore da dove è conseguito il dottorato in cultura e società dell'Europa contemporanea con una tesi poi pubblicata categorie marxiste e storiografia del mondo antico critica e storia di un dibattito italiano degli anni 70 e attualmente è docente di filosofia e storia nei licei e cercheremo di dare la parola agli autori e anche al pubblico sia a quello presente in sala che da casa che potrà scrivere sulla chat della nostra diretta le eventuali domande da porre ai nostri ospiti del giorno quindi senza dovermi dilungare ulteriormente io lascerei parlare prima Sebastiano Redolfi Riva Tommaso Redolfi Riva e poi Sebastiano Taccola il contrario benissimo prima il dottor Taccola e poi il dottor Redolfi Riva la serata oltre all'intervento degli eratori vuole essere uno stimolo al dibattito quindi dopo i primi due interventi chi volesse prepararsi un intervento domande, questioni, riflessioni avrà la possibilità di farlo ovviamente soscuno sarà lasciato un tempo molto ridotto di 2-3 minuti per presentare una questione a cui poi al termine dei lavori risponderà o troverà un dialogo il professor Bellofiore io non mi dilungo ulteriormente e vi cederei il microfono grazie, grazie mille allora sì, presentiamo appunto il libro di Michael Heinrich un libro che direi è il grande pregio di essere contemporaneamente complesso e chiaro si tratta di una qualità non secondaria che forse caratterizza molte opere che sono o ambiscono ad essere dei classici la complessità è senza dubbio definita dall'oggetto della trattazione dagli strumenti usati per l'esposizione ad esempio astrazione teorica e filologia e dall'architettonica complessiva dell'opera la chiarezza invece d'altro canto trova espressione nel lessico specifico sempre ben definito, puntuale formalmente determinato nella coerenza concettuale e nello stile limpido e lineare del discorso di Heinrich chiarezza e complessità si presentano immediatamente ai nostri occhi direi sin dal titolo scienza del valore forse la sintesi più efficace del contenuto della critica dell'economia politica di Marx allo stesso tempo però dietro le parole scienza e valore c'era un complesso intreccio concettuale che Heinrich ci fa intravedere a partire dall'introduzione che poi sviluppa nel corso del libro e credo dunque che in via preliminare sarebbe utile, potrebbe essere utile fare un focus proprio sulle parole del titolo io mi concentrerò soprattutto sulla parola scienza provando a evidenziarne le molteplici implicazioni a cui questo termine diciamo allude nel discorso di Heinrich scienza è raro direi nel mondo di oggi così ideologicamente disorientato di fronte alla parola scienza trovare un'opera che rivendica sin dal titolo una qualche scientificità a parlare di scienza infatti si rischia di apparire via via scientisti, positivisti, idealisti portatori degli standardi del progresso invertebrato e così via ma cosa è scienza e di che cosa si occupa e come se ne occupa non è una questione risolvibile in maniera preliminare la scienza è definita dall'oggetto del suo discorso questo è un punto che Heinrich sottolinea anche sulla scorta di tanta epistemologia antiempiristica e antipositivistica e lo si vede quando fa leva su una rete concettuale sorretta dai concetti di paradigma problematica e campo teorico rispetto alla strattezza della filosofia della scienza neopositivistica l'epistemologia critica contemporanea ha messo sul tavolo un approccio alla scienza direi antiriduzionistico secondo cui la scienza non si limita a formulare osservazioni e teorie ma pone domande e problemi a partire dai quali definisce il proprio oggetto e i margini di produzione dei cosiddetti fatti scientifici al concetto discontinuista di paradigma risalente al classico la struttura delle rivoluzioni scientifiche di Kuhn del 1962 Heinrich preferisce sostituire quello di problematica ed è il suo intreccio con il concetto di campo teorico se sul livello della problematica infatti siamo in grado di vedere la struttura del discorso scientifico sul piano del campo teorico invece si reverberano gli effetti di quegli assunti che definiscono l'oggetto del discorso e i modi del sudarsi alla comprensione è dunque possibile che ad esempio ci siano diverse problematiche che esprimono uno stesso campo teorico o addirittura come talvolta ci dice Heinrich avviene in Marx non ci sia piena coincidenza tra la problematica posta e il campo teorico indagato lungo questo filo conduttore Heinrich arriva a proporre una configurazione piuttosto radicale di che cosa sia una rivoluzione scientifica e cito con rivoluzione scientifica non si intende semplicemente il passaggio ad un nuovo paradigma come voleva Kuhn ma solo il passaggio ad un paradigma che rompe con il campo teorico dei paradigmi precedenti ovvero perché si possa parlare di una rivoluzione scientifica non basta porre nuove domande a cambiare deve essere il concetto di oggetto della scienza il suo concetto di realtà effettiva e quindi coerentemente il concetto stesso di scienza fine della citazione come mostrato da Vittorio Morfino nella sua nota su Heinrich e Althusser che è una nota che segue l'introduzione di Riccardo Velofiore su questi punti di Heinrich possiamo cogliere chiaramente l'influenza altusseriana e del resto Heinrich fa proprio alcune tesi portanti del primo Althusser dell'Althusser di leggere il capitale direi soprattutto l'oggetto della scienza non è qualcosa di dato ma di costruito l'oggetto del sapere è distinto dall'oggetto reale la realtà della teoria conserva ampi margini di autonomia rispetto a ciò che è esterno ad essa attenzione però a rivolgere ad Heinrich le accuse di idealismo antistorico classicamente rivolte allo strutturalismo altusseriano anzi per Heinrich questa articolazione concettuale permette di cogliere meglio la storicità specifica della scienza oltre che i condizionamenti storico-sociali che pesano sulla sua evoluzione e cito ancora da Heinrich quello che il concetto di campo teorico cerca di delineare o che è socialmente condizionato non sono semplicemente determinati interessi di classe o di gruppo bensì strutture percettive fondamentali una determinata organizzazione del senso comune di ciò che è dato per scontato che penetrano nel lavoro scientifico si tratta di dice Heinrich citando Marx forme oggettive di pensiero che risultano dalla struttura di base della rispettiva società di conseguenza proseguo io ogni scienza insieme alle proprie condizioni di scientificità e storicità pone una specifica dialettica tra soggetto e oggetto su cui pesano anche le circostanze storiche in cui si valuta in questa dialettica quanto di soggetto c'è nell'oggetto e quanto dell'oggetto c'è nel soggetto scienza del resto è anche mediazione di a parte subiecti e a parte obiecti ma la soggettività di cui si sta parlando così come l'oggettività non è qualcosa di arbitrario e contingente ma è un prodotto sociale questo ce lo dice Heinrich nella prima parte del suo testo da queste considerazioni emerge subito il carattere metateorico della scienza marxiana secondo l'interpretazione di Heinrich la critica dell'economia politica infatti non è scienza sans phrase ma è scienza critica cioè un discorso che fonda le proprie condizioni di scientificità attraverso la critica emanente di un sapere specifico il sapere dell'economia politica la scienza marxiana si autofonda come scienza nel corso del suo svolgersi come critica conquista la sua eccedenza rispetto al paradigma dell'economia politica classica criticando attraverso il modulo della critica emanente l'economia politica classica stessa il momento chiave secondo Heinrich di questa autofondazione è come vedremo la teoria del valore per Heinrich però l'esame delle condizioni di scientificità della critica dell'economia politica richiede un'ermeneutica adeguata la scienza marxiana infatti secondo la ricostruzione che ci dà Heinrich assomiglia a una sorta di strana sezione geologica composta da unità stratigrafiche spesso non omogene ricordando alcune posizioni interpretative più significative del marxismo novecentesco ho già ricordato l'altusser della lettura sintomale ma anche la neue marx lectura tedesca e persino direi il marxismo antistoricistico italiano Heinrich procede dunque ad una lettura del marx maturo basata sui concetti di problematica e campo teorico rilevando certe coerenze delle esposizioni di marx se marx ha posto radicali nuove problematiche talvolta non presuppone dice Heinrich il campo teorico adeguato per risolvere la problematica posta a causa di queste incongruenze ci dice Heinrich la rivoluzione scientifica citata nel sottotitolo proposta da marx è rimasta un qualcosa di incompiuto si tratta allora secondo Heinrich di lavorare con marx e cioè entrando dentro il complesso laboratorio dei manuscritti marxiani messi a disposizione dalla mega 2 ma anche contro marx notando le incongruenze interne del discorso marxiano e oltre marx perimetrando in maniera più chiara il campo teorico posto dalla critica dell'economia politica e portando a compimento come dicevo prima la rivoluzione scientifica di marx talvolta dunque marx secondo Heinrich non è consapevole della radicalità delle problematiche da lui poste e dalla conseguente apertura di un campo teorico che rompe con quello dei classici i classici non possono vedere quello che lui vede questo è un punto forte di Heinrich in questo senso infatti Heinrich mostra bene come marx talvolta vedesse o cercasse nei classici un concetto o un'anticipazione di un concetto che in realtà non solo non c'era ma non ci poteva essere ad esempio quello di valore o di plus valore l'economia politica classica infatti si basa su presupposti metodologici essenzialisti individualisti ed empiristi che circoscrivono un paradigma scientifico in cui forma valore plus valore lavoro astratto le categorie chiave del discorso marxiano non possono nemmeno essere intuiti le anomalie dell'economia politica non possono essere risolte all'interno del suo stesso campo teorico sono necessarie nuove categorie una nuova nomenclatura nuove problematiche un nuovo campo teorico in poche parole sono necessarie nuove parole nuovi concetti cioè una rivoluzione scientifica il discorso di Heinrich dunque decostruisce la configurazione della storia del pensiero economico offerta dalla moderna economics la quale inserisce Marx all'interno del pensiero economico classico e considera se stessa quale fondamentale rottura teorico-scientifica in realtà mostra Heinrich i presupposti del marginalismo producono semplicemente un timido cambio di paradigma rispetto ai classici dell'economia sorge una nuova problematica forse ma il campo teorico rimane lo stesso per quel che riguarda l'essenzialismo e l'individualismo metodologici guardiamo ad esempio che la naturale inclinazione dell'essere umano smittiano a trafficare barattare scambiare è diventata nei neoclassici la tendenza a massimizzare il proprio utile un aspetto cioè del comportamento umano l'empirismo poi di Smith e Riccardo la loro mancanza di comprensione delle diverse forme di mediazione tra essenza e pervenza ha gli stessi presupposti che trovano espressione nel feticismo per i modelli di dati dell'economica la scienza marxiana dunque non è solo critica dell'economia politica classica ci dice Heinrich ma anche critica dell'economia neoclassica essa costituisce una rottura con entrambi è anti-empiristica è anti-essenzialistica e coglie la storicità specifica delle dinamiche sociali l'itinerario marziano nel suo complesso è ripercorribile come una fuoriuscita e questa è una ricostruzione che Heinrich propone nel volume dall'antropologismo dall'empirismo e dallo storicismo secondo Heinrich finché questi presupposti agiscono realmente e non solo marginalmente nel discorso marxiano non ci sono le condizioni per lo sviluppo della critica dell'economia politica contro dunque qualsiasi lettura continuistica di Marx Heinrich esamina la rottura epistemologica che ha posto le condizioni di possibilità della genesi della critica marxiana distinguendo tra un Marx pre-critico e un Marx critico esattamente come si fa ad esempio per Kant riprendendo le note tesi altusseriane ma senza ricalcarne direi l'eccessiva rigidità e ampliandone la complessità e la mobilità direi Heinrich sostiene che all'altezza dell'ideologia tedesca e delle tesi su Feuerbach Marx abbia già abbandonato l'antropologismo essenzialistico ma non ancora ad esempio l'empirismo e lo storicismo si deve attendere l'introduzione del 1857 a Grundrisse per vedere una maturazione del paradigma originale della critica dell'economia politica questo non significa ovviamente anche su questo direi che Heinrich è molto lucido a me sembra molto lucido che il Marx giovane sia totalmente estraneo a questa indagine anzi se letto contropelo ripeto contropelo cioè a partire dalla maturità della critica nelle opere della fase pre-critica possiamo cogliere l'emergere talvolta assai timido di problematiche aspirazioni ed esigenze teoriche ancora poste su un campo teorico inadeguato per la loro risoluzione come ad esempio nota Heinrich i concetti di critica emanente o di metacritica vorrei adesso soffermarmi però sulle molteplici implicazioni delle esame delle molteplici implicazioni dicevo ricavabili dall'esame della nozione di storicità proposto da Heinrich che direi sono almeno almeno quattro è nota diciamo la tesi altusseriana che Marx abbia fondato il continente storia e cioè che Marx invece di considerare come i suoi predecessori la storia come un qualcosa di dato la consideri piuttosto come un risultato il paradigma marxiano incardinato sul concetto di storicità specifica e cioè di forma del divenire storico specifico quale espressione delle determinazioni sociali specifiche di un modo di produzione produce come scrive ad esempio Alfred Schmidt non un modello di storia narrativa ma quello di una storia da costruire Heinrich segue questo filo conduttore e ne specifica l'innovativa portata teorica Heinrich infatti sottolina più volte che l'esposizione della critica dell'economia politica è logica e non storica e si può comprendere appieno il discorso marxiano se si lascia da parte quella forma limite dello storicismo che considera la storia quale immediato riflesso dello sviluppo logico o che attacca in maniera estrinseca la determinazione storica alle categorie che riduce sostanzialmente Marx a un Hegel più Riccardo la teoria di Marx infatti prevede una specifica dialettica tra logica e storia secondo cui la seconda cioè la storia da presupposto diviene risultato della logica una dialettica fatta propria da Marx anche nel momento dell'elaborazione scientifica e che si reverbera anche nel rapporto epistemologicamente rilevante tra modo dell'esposizione e modo della ricerca seguendo questo approccio svilupperei le seguenti questioni la prima che riguarda scienza e storia della scienza il concetto di scienza presentato da Heinrich incline alla considerazione delle determinazioni specifiche del rapporto tra problematiche e campi teorici dicevo apre alla considerazione della storicità della scienza su questa strada è possibile elaborare una storia della scienza da un lato svincolata dalle maglie della cronologia e dall'altro direi autocritica cioè consapevole dei propri presupposti e immune a quello che con Carlo Ginzburg potremmo chiamare ventriloquismo storiografico un esempio di quest'ultimo lo possiamo vedere ad esempio nella storia dell'analisi economica di Schumpeter opera più volte citata nella prima parte da Heinrich ad esempio Schumpeter esaminando il pensiero economico di Aristotele dice che è un pensiero mediocre pomposo ridotto a un senso comune decoroso cioè sostanzialmente per Schumpeter in Aristotele non si dà il suo modello di analisi economica in questo caso direi Schumpeter non solo presuppone naturalizza la definizione di economia ma identifica il sapere dell'economia con l'analisi economica e così procedento ci dà una definizione di scienza economica allo stesso tempo storicamente troppo ampia perché è potenzialmente estendibile a tutte le epoche della storia della società e poi anche troppo ristretta perché identificabile solo ed esclusivamente con il paradigma quantitativo presupposto dal modello dell'analisi economica da ciò emerge direi un sapere muto autoreferenziale sul piano storiografico incapace di cogliere le differenze storiche e la storia è scienza delle differenze Marx direi si comporta diversamente con Aristotele e ne abbiamo tutti un esempio nella prima parte del primo libro del capitale però anche Marx secondo Heinrich non è un ottimo storico del pensiero economico lo si vede nelle teorie sul plusvalore laddove ad esempio sovraimpone ai classici le problematiche della critica dell'economia politica e secondo Heinrich in questo senso non possiamo considerare questo in suo punto fermo le teorie sul plusvalore un'opera storiografica l'altro punto direi secondo la lettura che ci propone Heinrich nella critica dell'economia politica di Marx troviamo una critica anche del mito dell'origine se il capitale secondo la critica del suo carattere di feticcio esposta da Marx è processo e non cosa significa che esso riproduce continuamente i propri presupposti Marx parla di presupposto direi mai di origine anche nel capitolo ventiquattresimo sulla cosiddetta accumulazione originaria l'accumulazione originaria appunto è cosiddetta e cosiddetta allude proprio alla mistificazione smithiana di questo fenomeno non si tratta infatti di ricchezza accumulata e messa a frutto ma di un processo sovradeterminato che pone i presupposti della produzione capitalistica esso si dà nella teoria come presupposto processuale posto necessariamente dalla logica del capitale non si tratta pertanto di origine anche perché direi che saltando di origine in origine si finisce in quella notte in cui tutte le vacche sono nere della storia con la S maiuscola ma di momento genetico processuale interno alla logica del modo di produzione capitalistico in altre parole per comprendere il momento istitutivo del rapporto capitalistico si deve capire la separazione tra le condizioni oggettive e quelle soggettive del processo lavorativo e la necessaria sussunzione della forza lavoro al capitale e cioè devono essere già state poste tutte le determinazioni e le categorie fondamentali del modo di produzione capitalistico e queste si trovano nei primi capitoli del primo libro del capitale forza lavoro processo lavorativo plus valore valore sussunzione eccetera un altro punto che emerge invece negli ultimi capitoli del libro di Heinrich riguarda proprio la dinamica del modo di produzione capitalistico le categorie marziane dice Heinrich non sono statiche ma dinamiche costituiscono cioè una struttura logica che produce effetti le categorie economiche infatti perimetrano la formice di possibilità del reale capitalistico le sue temporalità e la sua storicità a partire da esse è possibile individuare le condizioni di possibilità di certe tendenze dotate di uno specifico grado di incidenza storica il modello della produzione capitalistica offerto da Marx è dunque ancora una volta lontano dai modelli dei classici e dei neoclassici che assumono la staticità di un equilibrio ideale in questo senso è proprio il carattere critico della scienza marxiana affondare condizioni e possibilità del darsi di una dinamica del rapporto di capitale niente può e deve essere assunto come un dato ogni presupposto deve divenire un posto così la silenziosa coazione dei rapporti economici di cui parla Marx si fa realtà effettuale praxis del capitale lungo questo filo conduttore Ehrich esamina quello che forse rappresenta il risultato più significativo della deduzione marxiana della dinamica del capitale la crisi e secondo Ehrich il risultato della crisi non va quindi inteso come la ricostituzione di un qualche equilibrio ma solo come la costituzione di una costellazione di coerenza economica sempre nuova che non può essere determinata in anticipo si tratta di muoversi ancora una volta sul piano logico a diversi livelli di astrazione e di definire le condizioni di possibilità e la realtà della crisi e nucleare le tendenze lungo periodo ma anche le variabili più congiunturali l'ultimo punto l'ultima ricaduta direi di questo concetto di storicità che troviamo nella lettura di Heinrich riguarda proprio il rapporto tra necessità e transizione l'ultimo capitolo intitolato appunto critica del capitalismo e socialismo può essere letto come l'esito del concetto di scienza con cui Heinrich apre il volume la scienza critica di Marx infatti non presupponendo alcuna originaria essenza umana non ha bisogno di alcuna base normativa dice Heinrich ad esempio il feticismo categoria chiave della critica dell'economia politica non è una critica a una socializzazione rovesciata ma una critica di una concezione rovesciata della socializzazione esistente la quale si fonda sul reale carattere di feticcio delle categorie economiche la critica dell'economia politica dunque fa piazza pulita di tutte quelle critiche moralistie e romantiche del capitalismo da un lato e poi anche e cito Heinrich di quelle concezioni socialiste che sboccano non socialismo della piccola produzione di merci da questo punto di vista si coglie il lato politico della teoria critica di Marx attenzione questa politicità della critica marxiana anch'essa è effetto di una struttura della scienza della scienza marxiana intendo non si tratta di un'aspirazione volontaristica idealistica e soggettivistica la critica all'economia politica non è una scienza di parte ma una scienza oggettiva Marx non stende le regole della prassi rivoluzionaria e ricoglie la struttura necessaria della prassi del capitale e gli effetti di distorsione ideologica dai saprodotti se di prassi ancora una volta si deve parlare innanzitutto secondo la prospettiva della critica dell'economia politica si deve innanzitutto parlare della prassi del capitale nel suo svolgimento poi la teoria critica di Marx apre un campo teorico in cui tutte le critiche romantiche idealistiche volontaristiche del capitalismo non trovano posto e questo è senza dubbio direi un risultato politico una politicità negativa se vogliamo ma innanzitutto è già un primo risultato politico la politicità effettiva poi della critica dell'economia politica presuppone tutta una serie di mediazioni è solo dopo aver ricostruito la dinamica del capitale che è poi possibile affrontare le condizioni di possibilità del suo superamento la questione della transizione al socialismo si può porre seriamente solo all'interno del perimetro della rivoluzione scientifica marxiana sottolinea un perimetro rispetto al quale ad esempio Engels nell'anti-Luring e persino lo stesso Marx nella critica al programma di Gotha si mostrano incoerenti quando ad esempio abbozzano un disegno di società socialista secondo i lineamenti di una teoria non monetaria del valore per Erich che invece rimane la centralità della teoria monetaria del valore nella critica dell'economia politica di Marx la rottura scientifica dell'episteme marxiana coglie la discontinuità storica del modo di produzione capitalistico la sua storicità specifica e le sue tendenze in questo quadro la questione della transizione esce al di fuori di una qualsiasi configurazione gradualista mi fa piacere citare i luporini qui a Firenze c'è stato uno scritto inedito recentemente pubblicato in cui luporini dice il modello della transizione gradualista è quello a dire che al socialismo si può ormai pervenire scivolando col culo sul burro ma invece la questione della transizione non esce al di fuori di questo storicismo gradualista e diviene esigenza apposta dalla teoria la transizione presuppone la posizione di un da dove e di un verso dove e cioè di coordinate definibili sul piano della scienza avrebbe da dire qui che Marx riesce a dare una configurazione scientifica e materialistica a un problema teorico che trovando i suoi momenti critici più significativi ad esempio in Kant in Schiller in Hegel ha attraversato tutta la filosofia della storia moderna e che ha trovato una propria soluzione solo come critica del sapere dell'economia politica grazie buonasera a tutti ora se Sebastiano ha cominciato dal titolo io comincerò dal sottotitolo il sottotitolo del volume recita la critica dell'economia politica tra rivoluzione scientifica e tradizione classica è proprio quel tra in qualche modo assegnare tutto il discorso di Heinrich da un lato Marx compie una rivoluzione scientifica rispetto al campo teorico dell'economia politica dall'altro l'esposizione marxiana continua a rimanere per certi tratti dipendente da quel campo teorico non si tratta soltanto di porre il problema della consapevolezza o meno da parte di Marx della luttura con il campo teorico dell'economia politica come tanto Althusser quanto la noia Marx letture avevano fatto la questione secondo Heinrich è ben più radicale posto che cito è lo sviluppo categoriale di Marx a rimanere in alcuni passaggi decisivi ambivalente credo che il merito principale del lavoro di Heinrich sia proprio quello di mostrare con estrema chiarezza dove risiede lo scarto teorico tra l'economia politica e la teoria marxiana avendo cura di individuare tanto in termini di metodo che di oggetto di analisi la portata della rivoluzione scientifica e al contempo i limiti dell'esposizione marxiana e le molteplici ricadute in un discorso quello dell'economia politica che non è mai del tutto consapevolmente superato nel fare questo se l'argomentazione di Heinrich è chiara essa è al contempo come suggeriva Sebastiano molto complessa la ricostruzione del discorso presuppone un continuo corpo a corpo con i testi marxiani che devono essere compresi nella loro genesi e nella loro stratificazione poiché non c'è un momento in cui la rottura si afferma come definitiva i campi teorici procedono affiancati in questo intervento partirò proprio dal mostrare gli elementi che determinano il campo teorico dell'economia politica e che vengono individuati da Heinrich nell'individualismo nell'antropologismo e nell'empirismo per Heinrich l'economia politica classica sviluppa una teoria del valore lavoro che ha come scopo la comprensione dei rapporti di scambio tra le merci e l'individuazione delle leggi che sorreggono la distribuzione della ricchezza prodotta all'interno dei processi produttivi in questo senso il valore è l'oggetto verso il quale la scienza orienta il proprio discorso Heinrich mostra che per l'economia classica il valore è il lavoro perché in ultima istanza è riconducibile al sacrificio fatto in termini di lavoro per ottenere una merce o alla pena e al disturbo per dirla con con Smith di procurarsela in questa prospettiva il valore diventa una categoria storica che caratterizza i rapporti di scambio tra gli individui a prescindere dalla forma sociale e specifica in cui essi si danno un tale individualismo aggiungerei io metodologico è però il ricomportato dell'antropologia che sorregge il discorso economico gli individui sono fin da principio ai possessori di merci della società moderna il cui agire è espressione della loro intima essenza quella che per Smith è la naturale propensione a scambiare e barattare e per l'economia moderna la tendenza alla massimizzazione dell'utilità in un contesto di scarsità individualismo e antropologismo essenzialista sono i primi elementi che perimetrano il discorso dell'economia politica e il suo campo teorico infine il discorso dell'economia politica è empiristico il che per Heinrich significa che per l'economia politica la struttura fondamentale della società è immediatamente accessibile all'intuizione sensibile del ricercatore o è comprensibile a partire da un'idealizzazione che riproduce i caratteri e i comportamenti degli agenti sociali le categorie dell'economia politica riflettono in modo immediato ciò che può essere accertato empiricamente e questo per Heinrich vale tanto per le categorie che in termini marxiani potremmo dire più concrete come il profitto medio la rendita o l'interesse ma questo vale per Heinrich anche per il valore lavoro che se non può essere accertato immediatamente può essere fatto risalire all'ideale valutazione dell'agente sociale in rapporto alla difficoltà di produzione della merce dal discorso dell'economia politica il valore appare appunto indipendente dalla forma di organizzazione sociale della produzione esso è una proprietà una proprietà che pertiene ai prodotti del lavoro a prescindere dalla struttura della società tanto l'individualismo quanto l'antropologismo essenzialista e l'empirismo fanno dell'economia politica una scienza dunque incapace di cogliere la produzione capitalistica come forma storica specifica della produzione umana per Heinrich il superamento della prospettiva dell'economia politica si determina attraverso il progressivo abbandono da parte di Marx di questi caratteri l'individualismo e l'antropologismo essenzialista vengono abbandonati da Marx a partire dall'ideologia tedesca e dalle tesi su Feuerbach l'essenza umana non è un qualcosa di naturale eterno e gli individui debbono essere compresi a partire dai rapporti sociali che essi istituiscono tra di loro l'attenzione di Marx si sposta dagli individui e dalla loro essenza generica ai rapporti sociali che adesso vengono compresi come costitutivi degli agenti sociali stessi la socialità non è comprensibile a partire dalle azioni degli agenti sociali perché la costituzione stessa degli agenti sociali si determina a partire dai nessi sociali all'interno dei quali essi sono inseriti per Heinrich quello che emerge con l'ideologia tedesca è un nuovo concetto di realtà sociale cito come un tutto composto da diversi momenti o livelli laddove la coscienza o il pensiero in quanto espressione di questi momenti è stessa parte integrante della realtà sociale una realtà sociale al cui centro stanno i rapporti di produzione che si presentano come momento costitutivo rispetto agli altri momenti o livelli fine della citazione se è vero che attraverso l'ideologia tedesca si ha una rottura profonda con il campo teorico dell'economia politica Heinrich mostra come Marx non abbia ancora elaborato una critica all'empirismo quei rapporti sociali di produzione che consentono di costruire i diversi modi di produzione che si sono susseguiti nella storia per il Marx del 45-46 possono essere semplicemente constatati empiricamente e a partire da questa constatazione compresi nella loro articolazione interna questa mancata consapevolezza della necessità del superamento della prospettiva empiristica non consente a Marx di comprendere le insufficienze categoriali dell'economia politica tanto che nella miseria della filosofia in salario o prezzo e profitto può limitarsi a criticare la mancanza di storicità dell'economia politica classica condividendo in gran parte la teoria del valore di Riccardo cioè senza comprendere che l'eternizzazione della produzione capitalistica compiuta dall'economia politica dipende strettamente dal modo in cui essa concepisce le categorie fondamentali del proprio discorso cioè senza aver ancora chiaro che il nuovo oggetto d'analisi il rapporto sociale il rapporto sociale di produzione richiede un nuovo apparato categoriale e una epistemologia non empiristica se il rapporto sociale di produzione diventa il nuovo oggetto teorico esso non può in alcun modo essere semplicemente constatato empiricamente se è possibile constatare empiricamente l'agire degli individui per Eirich il rapporto sociale deve essere ricostruito teoricamente attraverso un sistema di astrazioni che non sia una semplice idealizzazione dell'azione degli agenti come afferma Eirich cito Marx comincia non dal singolo ma dall'universale scusa deve essere ricostruito il rapporto sociale il rapporto sociale deve essere ricostruito teoricamente attraverso un sistema di astrazioni che non sia una semplice idealizzazione dell'agire degli agenti e come dice Eirich direttamente Marx comincia non dal singolo ma dall'universale il problema epistemologico che si pone che è adesso centrale è come concettualizzare il rapporto se il rapporto non può essere né esperito né ricostruito a partire dalle azioni degli agenti sociali perché gli agenti sociali non sono che i portatori di esso le categorie chiamate a comprendere tale rapporto non possono neppure secondo Eirich avere un immediato referente empirico al contempo però tali categorie devono essere in grado di spiegare e di ricostruire quell'empiria immediata a cui l'economia politica rimane ancorata ora questa consapevolezza metodologica per Eirich trova espressione esplicita soltanto nel 1857 come diceva Sebastiano nell'introduzione ai Grundrisse e poi avrà un'applicazione appunto all'interno del capitale e nei manoscritti preparatori sebbene come già detto il campo teorico dell'economia politica riemerga spesso nelle esposizioni ora le categorie fondamentali della critica dell'economia politica merce valore capitale plus valore sono categorie che esprimono rapporti per Eirich sono degli universali che empiricamente non sono constatabili ma che sono necessari per comprendere la struttura della produzione moderna inoltre questi universali per Eirich non sono solo nomi o generalizzazioni essi sono questo è un termine che usa Eirich universali reali rapporti strutturanti che articolano la realtà empirica e che soli la rendono comprensibile il rapporto soggetto-conoscente oggetto-conosciuto si complica rispetto alla prospettiva empiristica l'universale non è solo una generalizzazione a parte subiecti esso esiste nella realtà come suo momento costitutivo e strutturante che solo consente di comprendere la superficie immediatamente constatabile della società rispetto agli universali per Eirich Marx è un realista di tipo aristotelico l'universale marxiano non è post-rem la posizione nominalista né ante-rem la posizione di un realismo platonico egheliano almeno nell'interpretazione di Eirich è un universale in re cioè un universale che esiste nella realtà di cui costituisce il momento strutturante sebbene si manifesti in forma mascherata alla superficie empirica Marx dice Eirich ha ben chiaro che la conoscenza scientifica richiede un piano teorico non empirico che essa deve operare con concetti che non hanno un correlato empirico immediato che deve cominciare con un astratto e ha come oggetto astrazioni reali fine della citazione si tratta appunto come dice Marx nel 57 di salire dall'astratto al concreto come dirà Marx nei manoscritti del 61-63 l'economista conosce solo cose tangibili o idee i rapporti non esistono per lui adesso che il rapporto ciò che rimane celato all'economia politica è divenuto l'oggetto della teoria esso richiede una concettualizzazione alla quale l'empirismo non può dare risposta cercherò ora di mostrare come Eirich ricostruisca la concettualizzazione marxiana del valore come rapporto sociale l'economia politica parte dal fatto che le merci si scambiano e danno un valore e il suo problema è individuare la causa di questo valore per l'economia politica il valore è un dato primitivo non ulteriormente analizzabile esso è un qualcosa di connaturato al rapporto che si determina tra uomo e natura a prescindere dalla struttura sociale della produzione laddove c'è produzione umana immediatamente c'è valore il punto di partenza di Marx è completamente diverso non si tratta di partire dal valore si tratta di comprendere la ragione in base alla quale un determinato prodotto del lavoro umano assume la forma di valore cioè si tratta di comprendere perché il prodotto del lavoro umano oltre ad avere una serie di qualità riconducibili alla sua corporeità fisica assume la proprietà di essere un valore il punto di partenza dell'esposizione marxiana è infatti la merce non solo in quanto prodotto del lavoro ma in quanto prodotto di una specifica organizzazione sociale che adesso diviene l'oggetto dell'analisi la merce come rapporto sociale non si tratta di ridurre il valore al lavoro ma comprendere come il lavoro diventa valore Diane Nelson ha coniato una formula per spicua per la teoria marxiana che a me pare estremamente intelligente dice Diane Nelson la teoria marxiana non è una labor theory of value cioè una teoria del valore lavoro ma una value theory of labor cioè una teoria potremmo dire valoriale del lavoro affinché il prodotto sia merce ed abbia valore è necessario che i prodotti si presentino sul mercato come prodotti di lavori erogati in modo indipendente l'uno dall'altro non esiste una pianificazione della produzione sociale il lavoro erogato all'interno delle unità capitalistiche di produzione è privato e solo immediatamente lavoro sociale l'assunzione della forma di valore della merce è il riconoscimento nello scambio che quel determinato tempo di lavoro erogato privatamente è socialmente necessario il valore diventa il meccanismo attraverso il quale si organizza l'attività economica perché le unità di produzione sono separate l'una dall'altra pur rimanendo dipendenti l'una dall'altra lo scambio assume un ruolo strutturale all'interno di questa specifica organizzazione della produzione esso è la forma necessaria di mediazione che consente da un lato la soddisfazione di ogni bisogno dall'altro la socializzazione dei processi lavorativi condotti indipendentemente l'uno dall'altro cito da Heinrich l'uguaglianza dei lavori privati nello scambio non è una semplice proprietà che attenga i singoli lavori privati di per sé ma è piuttosto una determinata relazione sociale nei confronti di tutti gli altri lavori privati ed è solo in virtù di questa uguaglianza non naturale ma specificamente sociale che si può parlare di lavoro astratto il lavoro astratto non è quindi immediatamente il lavoro concreto speso nella produzione della merce né è determinabile prima che quel lavoro concreto si sia mostrato socialmente necessario attraverso il suo rapportarsi agli altri lavori privati nello scambio come afferma Heinrich ponendo la questione del carattere specificamente sociale del lavoro che produce merci e sollevando così un interrogativo al quale non è possibile rispondere facendo ricorso alle prospettive di azione degli agenti coinvolti o alle loro operazioni di astrazione marx abbandona il campo teorico dell'economia classica per questo egli sottolinea a ragione il fatto che la distinzione mai fatta da classici tra il lavoro in quanto produce valori d'uso e il lavoro in quanto produce valore è il punto cruciale attorno al quale ruota la comprensione dell'economia politica fine della citazione il lavoro astratto in quanto sostanza del valore quindi lavoro concreto erogato privatamente che si realizza come lavoro astratto solo attraverso lo scambio sul mercato che mette in relazione quel lavoro con tutti gli altri lavori se attraverso questa acquisizione marx trascende il campo teorico dell'economia politica tuttavia nelle sue diverse esposizioni a questo discorso si affanca un'idea naturalistica di lavoro astratto come lavoro semplice lavoro medio come dispendio fisiologico di natura umana che ricade all'interno del discorso dell'economia politica ma se il lavoro astratto non è il lavoro concreto ma sostanza puramente sociale che si realizza attualizza nello scambio attenzione per Eric si realizza nello scambio non si crea nello scambio esso non può in alcun modo essere misurato prima dello scambio quella misurazione in ore sarebbe la semplice misurazione del lavoro concreto erogato ma non del lavoro astratto quale sostanza puramente sociale la misurazione del lavoro astratto è anch'essa un processo sociale che si determina sul mercato delle merci ogni misurazione del valore in ore e lavoro ricade sul terreno dell'economia politica la prospettiva da cui Heinrich legge Marx è radicale argomenta a partire dal manoscritto 71-73 è un manoscritto di aggiunte e modifiche che Marx stende in vista della seconda edizione del primo libro e mostra che il lavoro astratto quale sostanza puramente sociale non pertiene neppure alla singola merce prima che essa venga venduta ora l'analisi della forma di valore mostra come il valore di una merce trovi espressione soltanto nel valore di scambio cioè nel corpo della merce contro cui la merce si scambia quella sostanza puramente sociale che è il lavoro astratto non si dà a vedere se non nel corpo della merce contro cui la prima merce si scambia questo significa che il valore come il rapporto sociale trova espressione in un determinato oggetto e la sua grandezza si esprime nella quantità fisica dell'oggetto contro cui esso si scambia il rapporto si esprime e al contempo si cela nel corpo di quella merce che ha assunto la forma di equivalente universale la forma di denaro quello che comunque emerge con forza dall'esposizione di Heinrich è la natura monetaria della teoria marxiana del valore la teoria di Marx è una teoria monetaria del valore come dice Enrico all'interno come titolo appunto di un capitolo a differenza delle teorie dei classici e dei marginalisti il denaro non è un velo che copre il processo di scambio né una convenzione sociale attraverso la quale è possibile superare le difficoltà del baratto il denaro è l'esito necessario di una specifica forma di organizzazione sociale della produzione in cui i lavori erogati privatamente diventano parte del lavoro sociale complessivo solo assumendo la forma di denaro il denaro non è una cosa ma un rapporto sociale che si esprime nella forma di cosa come afferma Heinrich è la forma necessaria e soltanto l'unica possibile forma fenomenica del valore delle merci una forma fenomenica del valore che sia indipendente dallo scambio non può esistere perché presupporrebbe la soppressione della differenza tra lavoro erogato privatamente e lavoro riconosciuto socialmente ogni esposizione della teoria del valore che non tenga conto di questo per Heinrich fa ricadere il discorso marxiano all'interno del campo teorico dell'economia politica un campo teorico in cui il valore è proprietà eterna delle cose in quanto prodotti del lavoro o oggetti di utilità un'ultima considerazione che si aggiunge a quanto detto da Sebastiano sulla teoria marxiana come scienza critica e come critica dell'intera scienza dell'economia politica ho già detto della chiarezza e della precisione attraverso cui Heinrich ricostruisce i presupposti del campo teorico dell'economia politica così come è molto convincente a mio avviso la ricostruzione della progressiva rottura marxiana con quei presupposti l'economia politica ha determinati presupposti metodologici che le consentono di orientare la propria analisi verso un determinato oggetto marx rompe con tali presupposti metodologici e può aprire un nuovo campo teorico in cui l'oggetto diventa il rapporto sociale di produzione ma il discorso di marx non si limita a criticare i presupposti metodologici dell'economia politica il discorso di marx vuole mostrare come le categorie dell'economia politica siano cito da marx forme di pensiero valido dunque oggettive per i rapporti di produzione di questo modo di produzione sociale storicamente determinato la produzione di merci non si tratta soltanto di criticare l'economia politica nei suoi presupposti metodologici ma di mostrare che l'errore metodologico dell'economia politica è specifico e riconducibile in ultima istanza all'oggetto dell'analisi dell'economia politica su questo Heinrich è esplicito solo nell'ultimo capitolo se è vero se è vero che per l'economia politica esistono l'ultima cosa è esplicito su cosa ti ripeto dicevo non si tratta soltanto di criticare l'economia politica nei suoi presupposti metodologici ma mostrare che l'errore metodologico dell'economia politica è specifico è riconducibile all'oggetto di analisi dell'economia politica e dicevo e su questo Enrico ha esplicito in realtà soltanto diciamo in un paragrafo dell'ultimo capitolo del volume se è vero che per l'economia politica esistono solo cose e idee perché essa non considera i rapporti e se è vero che questa carenza dipende dal suo empirismo e dal suo individualismo metodologico al contempo è necessario mostrare che un tale errore è specifico e in ultima analisi riconducibile al modo in cui si realizza il rapporto sociale capitalistico come afferma Erika appunto nell'ultimo capitolo l'inadeguatezza dell'economia politica cito non è dovuta a inadeguatezze individuali degli economisti bensì a essa stessa espressione dei rapporti borghesi poiché all'interno della produzione di merci le relazioni sociali delle persone sono mediate attraverso le cose le relazioni sociali delle persone si manifestano come proprietà di cose in quanto rimane intrappolata in questa parvenza l'economia politica il sistema categoriale dell'economia politica non è semplicemente falso è piuttosto un sistema dice Heinrich di forme impazzite la parvenza non è un mero inganno superficiale è un risultato necessario di questo determinato nesso sociale fine della citazione le insufficienze dell'economia politica non sono dunque soltanto metodologiche sono un portato della forma specifica in cui quel rapporto che con Marx diviene l'oggetto dell'analisi trova realizzazione il feticismo dell'economia politica è da ricondurre in ultima analisi al carattere di feticcio cioè di cosa che assume il rapporto sociale capitalistico grazie dell'attenzione grazie mille a entrambi i nostri relatori e in questo momento ci piacerebbe aprire a un minimo di dibattito o di considerazione domande che abbiate piacere io però vi chiederei sempre per rispetto anche del pubblico a casa se potete venire qui a farle grazie mille abbiamo già un primo intervento preparato buonasera colgo l'occasione per la presenza di tutti mi scuserete se sono un po' non chiaro perché le notti bianche allo studio dopo producono effetti il giorno dopo voglio fare una domanda che probabilmente interesserà la risposta sarà interessante averla a parte di tutti nel libro di Heinrich c'è anche una parte consistente dedicata a sraffa e allo sraffismo è quello che mi ha sollecitato la domanda che adesso cercherò di esporre giorgio bellucci vabbè non importa da tanto da tanto allora la presenza sul nel libro di sraffa e della sua discussione su sraffa mi ha posto il seguente problema qual era l'obiettivo di Marx nello scrivere le cose che ha scritto e qual era quello di sraffa tagliare le cose in questo modo è abbastanza difficile però d'altronde mi scuserete ma il tempo che ho a disposizione è poco e quindi consentitemi questo taglio una delle differenze è che in Marx ovviamente si può vedere quel granello di determinismo che certamente sraffa non c'è anzi sraffa come si usa a dire c'è la fotografia del sistema anche se io su questo non sono molto d'accordo in Marx e io penso alla trasformazione e alla caduta tendenziale del salgio del profitto c'è un po' di determinismo c'è anche c'è anche un po' di ci sono anche le controtendenze come noto anche soprattutto la trasformazione è stata oggetto di biblioteche intere di discussioni di polemiche di critiche fino ad arrivare alla conclusione di queste critiche che è cominciata di fatto con Borchievic 1907 gli assunti di Marx sul problema della trasformazione nono capitolo del terzo libro del capitale sono sbagliati anzi sono falsi così ripeterà anche Stidman sono falsi io credo che sia anche abbastanza brutto dire sono falsi comunque questo dicono proponendo e aprendo la discussione aprendo la discussione aprendo l'idea della soluzione simultanea al problema della trasformazione dei valori in prezzi di produzione che arriverà in porto in modo rigoroso così si usa dire da parte di Straffa con il famoso testo produzione di merci a mezzo di merci io credo che bisogna fare un ragionamento adesso perché se no si rischia che si arrivi sempre troppo tardi molti teoremi nel corso della storia che sono stati dati per errati e sbagliati poi sono stati risolti ho fiducia che venga risolto anche questo di Marx dopodiché a me mi si apre subito un problema che è un problema politico la distanza fra gli obiettivi politici che si dava Marx e quelli che si dava a Straffa diversamente io comprenderò sempre poco perché qualcuno dice che come De Vivo che in realtà produzione di merci a mezzo di merci fa i conti col secondo libro del capitale di Marx oppure come specificato lì non c'è un problema di derivazione marxista in Sraffa no? tant'è che Sraffa negli scritti della della quella lì critica anche Borchievici io non ho mai letto nulla degli scritti che ha lasciato inediti Sraffa purtroppo però non ho avuto mai questa occasione su Sraffa vorrei dire due cose però primo come Marx anche Sraffa il saggio di plusvalori il saggio di sfruttamento si dà per omogenea e quindi c'è una base di partenza che è importante e decisiva anche Sraffa è vero che Sraffa non cita mai Marx fra le sue fonti se non per la questione del massimo saggio di profitto ma è anche vero che Sraffa era stato educato da Keynes se uno fa subito riferimento alle sue fonti e nel caso del sacrilego Marx forse finisce che viene subito messo al muro e credo che Sraff avesse cognizione di questo visto che Keynes l'aveva tant'è che Keynes di Marx dice soltanto che va rimandato nel sottomondo degli eretici io credo che bisogna anche qui stare attenti è noto e sto per concludere che in Sraffa a differenza di Marx il saggio del profitto è soltanto soltanto si fa per dire soltanto il risultato dei rapporti di forza fra le classi sociali la sua formula fondamentale r minuscola uguale r maiuscola aperta parentesi 1 meno w è questo la relazione lineare inversa fra profitto e salario descrive il sistema Sraffiare che è in questo caso molto diverso da quello di Marx da questo punto di vista si intende il fatto e finisco che si dà per risolto il problema della trasformazione proprio nell'idea della soluzione simultanea di prezzi e salario del profitto chi nasce prima o chi nasce dopo è come l'uovo o la gallina in questo caso ma allora se io penso a qual è l'obiettivo di Marx e qual è l'obiettivo di Sraffa io forse riesco a capire meglio anche tutto il ragionamento che è stato fatto qui perché diversamente può darsi che io metta Marx accanto ad altri e così vicino da renderlo anche poco distinguibile agli effetti di che cosa? dell'uso che ne voglio fare come sinistra chi dei due mi aiuta di più in questa fase del mondo? Marx o Sraffa? Grazie Grazie mille signor Giorgio ci sono altri interventi dalla sala? In questo momento qualcun altro vuole intervenire? D'accordo allora io passerai intanto se poi vogliono intervenire dopo abbiamo tempo certamente chiunque voglia intervenire basta che si prenoti mi alzate la mano e vediamo di trovare subito lo spazio nel frattempo se anche da casa dalla diretta streaming ci volete condividere alcune osservazioni alcune domande ovviamente raccoglieremo in sala le vostre domande e le porremo ai nostri ospiti grazie un secondo allora io sono un po' imbarazzato ad intervenire e vi dirò fra un attimo perché prima voglio però ringraziare un po' di persone il primo è Amos Cecchi con cui dialoghiamo da tempo e a lui credo forse è già stato ricordato si deve si deve questo incontro il secondo è il coautore io sono il coeditore il cocuratore io sono uno dei curatori di questo volume l'altro è Stefano Breda che è un brevissimo filosofo giovane molto più giovane di me tra voi due credo come come età e che ha fatto una tesi bellissima sul sul denaro in Germania che meriterebbe di essere tradotta in italiano il passo successivo nel mercato del lavoro è stato fare il pizzarolo a Berlino e adesso insegna anche lui credo insegnante di sostegno vicino alla Val di Susa cioè questo è diciamo una delle tragedie della situazione italiana che c'è tutta una intellettualità validissima che è un po' sottoutilizzata però devo ringraziare anche i due presentatori non in quanto presentatori ma perché con loro il dialogo va avanti da molto tempo l'imbarazzo è dovuto al fatto che io mi sento uno studente rispetto alle cose che loro dicono come vedrete questo non significhi che sono sempre d'accordo o non significhi che la discussione possa non essere vivace e diciamo sono tra i miei lettori preferiti nel senso che prima di produrre uno scritto se io posso glielo infliggo e loro mi danno i loro commenti quindi l'introduzione che poi è finito con l'essere molto lunga ma la colpa non è mia la colpa è del curatore della collana perché io gli ho mandato 40 pagine in genere meno tempo ho più lungo è lo scritto e avendo perso molto tempo a rivedere con Stefano Breda il testo mi era rimasto pochissimo tempo per scrivere l'introduzione quindi è venuta un'introduzione che già secondo me era molto lunga però avevo seguito il criterio dell'ultimo Giorgio Gattei che non note è meglio andare sul vago e così via Vittorio Morfino gentilmente mi ha detto è troppo buona devi mettere i riferimenti le note e spiegare una serie di cose quindi è diventata di 60 pagine io l'ho mandata a Sebastiano Taccola e a Tommaso Redolfi Riva e loro me l'hanno riguardata molto bene hanno risparmiato nell'esposizione orale qui una critica che è del tutto corretta che mi hanno fatto in modo del tutto indipendente entrambi ed è l'introduzione è bella ma c'ha un problema fondamentale e il problema fondamentale è che tu in una prima parte comprensibile esponi il pensiero dell'autore e voi avete visto che è quello che hanno fatto sia Sebastiano che Tommaso poi non sono sicuro che sia sempre il pensiero dell'autore ma questo ne parliamo dopo però dopo nello stesso discorso interagisci e dici come la pensi tu io come si dice nei film americani giudiziari mi sono dichiarato colpevole così come ero stato accusato ma per una ragione molto semplice perché fin dall'inizio con Marx e forse solo con Marx io non riesco a fare diversamente cioè io non riesco a combattere con il testo a prenderlo macinarlo buttare via questo buttare via quello magari recuperarlo e così via e vi debbo dire voi vi ne rendete conto se leggete l'introduzione e forse se la faccio a dirlo anche dopo che io ho molti dissensi con Michael Heinrich e però lo sento come un fratello e questo me l'ha detto più o meno un mese fa se ricordo bene Tommaso Redolfi Riva quando in una telefonata mi ha detto ma ho capito perché ti piace così tanto perché ha lo stesso atteggiamento tuo se la prende con Marx questo non va bene quell'altro è una fesseria ma avrebbe dovuto essere più coerente ci sono un sacco di ambivalenze e poi magari lo lo recupera ecco io questo credo che sia ciò che si debba fare e se posso fare una prima critica è ciò che voi due non avete fatto rispetto ad Heinrich cioè voi avete letto Heinrich in modo non enrichiano del tutto legittimo io come dire ho visto ho imparato una serie di cose dai vostri interventi che prima non avevo non avevo non avevo visto i debiti sarebbero tanti quelli che che ho avuto gruppi di lettura sul capitale per esempio per lo più con giovani ma anche e mi piace ricordarlo con lavoratori erano prevalentemente della Fiat perché io ero Torino nella mia prima fase diciamo così di introduzione anche alla politica all'inizio degli anni settanta ho usato il maschile non a caso erano maschi perché erano lavoratori della Fiat a Torino nei primi anni settanta fosse stato a Biella potevano essere anche molte donne nel tessile fine Fiat fine anni settanta sarebbe stato diverso allora io non vi sto a dire il perché però come dire dei lavoratori anche non colti secondo la misura della scolastica lo erano nella sostanza e il mio modo di leggere Marx è molto dipendente da questo incontro se voi leggete la mia introduzione arrivate alla fine dell'introduzione vedete che c'è un confronto faccio un paragone del rapporto con Michael Heinrich del perché di una serie di cose che poi emergeranno e dico che forse hanno anche a che vedere con dove e come ci siamo socializzati alla politica e abbiamo cominciato ad interrogarci su Marx perché siamo quasi coetanei lui è un po' più giovane 5-6 anni però lui ha cominciato a masticare seriamente Marx primo di me sostanzialmente gli stessi anni cioè io certo ho cominciato con Rosa Lux alla fine degli anni 60 però diciamo l'economia politica di Marx l'ho cominciato a leggere seriamente 72 73 74 e lui così io all'università lui al liceo però cosa era la Germania nel momento in cui lui andava verso Marx era una Germania in cui l'onda del movimento studentesco recedeva non c'era molto altro ma c'erano gruppi marxisti o marxiani che derivavano di qui che erano tentavano di uscire da questa impasse con quello che era uno sforzo verso quello che in Germania si definiva progetto ricostruttivo la ricostruzione in Germania significava prendere Marx sganciarlo dall'est se possibile e cercare di superarne le contraddizioni all'interno del suo pensiero stesso usando una formula famosa leggere o interpretare Marx secondo Marx Erich lì nasce questo è il suo primo sforzo e quasi subito a suo merito capisce che non funziona quindi lui dice no alla ricostruzione andiamo invece verso una interpretazione che mette in evidenza le antinomie contraddizioni ambivalenze di Marx e nesce nel modo che è stato brillantemente esposto quindi lui contrappone la ricostruzione nel senso che ho detto alla interpretazione come una diciamo costruzione di un nuovo Marx oltre Marx è stato definito con Marx contro Marx oltre Marx qui c'è un po' una differenza perché io uso interpretazione nel senso che Marx che che Heinrich definisce per ricostruzione uso ricostruzione per andare oltre Marx ma insomma lì ci ci capiamo io ero in una realtà diversa cioè in Italia gli anni in cui io mi sono socializzato alla politica a Torino sono gli anni alti del conflitto sociale che per me vanno dal 68 al 73 dopo il 73 si è in caduta ma è una caduta come dire ancora da un alto livello fino al 79 grosso modo 80 gli anni in cui l'ho vissuto a Torino ora non non mi è possibile entrare nel merito di tanti punti io ho apprezzato diciamo così della letteratura sia di Sebastiano Taccola che di Tommaso Redolfi Riva la capacità di rileggere Heinrich secondo me migliorandolo cioè secondo me gli hanno attribuito una serie di tesi che non sono propriamente sue per come io l'ho letto ma questo cercherò di dirlo strada strada facendo però vi anticipo vi anticipo qualcosa di vi anticipo qualcosa di problematico secondo me innanzitutto l'operazione che fa Heinrich in Germania in particolare dalla seconda edizione del 1999 è interessante vi apro una parentesi questo è il libro fondamentale di Michael Heinrich dirlo in Italia non significa granché perché è la prima opera che appare di Michael Heinrich ma all'estero Michael Heinrich è uno ma da decenni uno dei grandi nomi della discussione non solo in Germania ma anche nel mondo anglosassone nel mondo dell'America Latina in Francia in Spagna e così via ha pubblicato un'introduzione elementare ai primi tre libri del capitale di Marx un libro di lettura critica dei primi cinque capitoli del primo libro del capitale di Marx e sta pubblicando non dirò la biografia definitiva di Marx perché lui non lo penserebbe neanche così ma una biografia seria e aggiornata di Marx che sarà in quattro volumi se ce la farà perché più va avanti più mi pare che il suo progetto si stia espandendo tutte queste cose sono state subito tradotte in tutte le lingue io ci ho provato con la biografia chi si impegna con un'opera che sarà di quattro di quattro volumi però esiste in tutte le lingue questa non ancora questa non ancora siamo i primi io sono contento perché in Italia non si traduce niente da tempo immemorabile c'è in costruzione una traduzione in inglese che comparirà forse quest'anno io scommetterei sull'anno prossimo forse in francese cioè in francese sicuramente quindi le cose vanno avanti questo libro è stato ordinato dall'America Latina perché certo è più facile leggere l'italiano che non che non il tedesco la mia opinione ovviamente da venditore ambulante è che tutti gli altri libri di Eric non li si capisce davvero se non si è letto questo Eric è proprio perché è una persona fortemente antidogmatica anche fortemente divisivo c'è una gran parte dei marxisti i quali dicono ah quest'uomo sta stracciando la teoria del valore lavoro poi c'è il fan club e quello è l'altro problema il fan club lo tratta un po' come Dio e non sono convinto che lo capisca lo capisca fino in fondo io ho fatto una presentazione di questo libro in inglese a un convegno all'inizio di novembre gli ho detto guarda io comincerò con due meme come si chiamano due immagini scherzose spero che tu non te la prenda in cui facevo vedere queste due reazioni ad Eric i critici che lo manderebbero a rogo e il fan club la battuta era è un po' scontata io non ho nessun problema con Michael e Eric ce l'ho con il suo fan club che mi spaventa e lui mi ha detto perché dovrei avere problemi cioè proprio è una persona è un intellettuale è un compagno se mi permettete da questo punto di vista da questo punto di vista delizioso però ci sono una serie come dire è inutile che io faccia le lodi perché se no non l'avrei introdotto c'è una serie di punti su cui io avrei molto a che ridire sono più esposti più più chiariti nella nella introduzione ve li dico così un po' brutalmente e con meno rigore di Sebastiano e di Tommaso Michael e Eric comincia sostanzialmente con un discorso sul metodo è stato ricordato più o meno per definire la rivoluzione scientifica fa l'operazione di andare a usare l'alto ser di per Mars ma soprattutto di leggere il capitale quindi il campo teorico alla problematica così come sono state esposte e così via ora voi però dovete mettervi in Germania e vi dovete mettere nella tradizione da cui in qualche modo esce Marx e a cui è legata tutta la noia Marx lettura che è un marxismo fortemente di impronta hegeliana e anti-althusseriana lui prende Althusser e in qualche modo rompe con questa con questa tradizione soltanto che queste non diteglielo anche se online Vittorio Morfino ha fatto questa introduzione perché era entusiasta c'è uno che capisce che è importante un classico importante il rapporto tra Althusser e Marx non so cosa ne pensi Maria Turchetto con cui spero di discutere questa roba qui ma in genere gli altusseriani sono affezionati a questa idea che Althusser dice sempre e volentieri il primo libro del capitale purtroppo comincia con tre capitoli complicati hegeliani e così via sulla merce buttiamoli a mare cominciate a leggere il capitale dal plus valore quindi si parte si usa Althusser per partire nella lettura di Marx dal plus valore no Eirik dice no bisogna leggere i primi tre capitoli a partire da Althusser Campo Problematico e Compagnia Bella ovviamente lui che cosa sta facendo sta cercando di sfuggire alla trappola della discussione tedesca e dei marxisti i quali si rinchiudono dentro la merce dentro i primi tre capitoli ma lo fa non facendo finta che non esistono ma cogliendone l'essenzialità nella costruzione e facendo vedere che di lì puoi capire che la merce ha una natura essenzialmente monetaria e che in fondo quella merce è una merce capitalistica quindi produrre valore e produrre plus valore ottimo però lui parte da un discorso sul metodo a me i discorsi sul metodo non piacciono mai consentitemi di essere brutale c'è stata una grande discussione metodologica che ha attraversato tutto il novecento e che arriva agli autori anche che un po' critica un po' piacciono a Michel Ayrich Kuhn e Compagnia Bella il discorso sul metodo è una trappola è una trappola non c'è discorso sul metodo che sia indipendente dall'oggetto un po' è la conclusione a cui arriva lui ma io ci parto come dire prima all'origine e allora ragioniamo su quale sia il metodo di Mars a partire da Mars vi sembrerà paradossale ma io questo discorso lo faccio a partire da due metodologi altusseriani uno che è Dominique Lecour e l'altro poco noto in Italia anche se un po' è stato tradotto che per me è ancora più fondamentale che si chiama Val-Suchting allora di lì tu capisci un punto fondamentale che in Mars è centrale il adesso devo essere un po' brutale il discorso metodologico sulla giustificazione di una teoria scientifica e in fondo ahimè Eirik sta solo su quel livello lì ma è anche fondamentale una dimensione pratica che riconosce una dimensione extratestuale nel discorso scientifico ed un rapporto per cui la conoscenza è conoscenza di qualcosa che è extratestuale che non puoi non apprendere che nel linguaggio ma con cui hai un rapporto pratico sperimentale l'empiria non è empirismo necessariamente questo in Eirik semplicemente non esiste mai il suo discorso al Tusseriano ha molta possibilità di avere rapporto con tematiche egeliane e recuperare tematiche egeliane non riesce mai a rompere veramente con Egel dove conta badate Eirik insiste sempre cosa che nel discorso che voi avete sentito era difficile cogliere insiste sempre sul fatto che lui con l'egelo marxismo non ha a che vedere io sì molto di più come dire pur non ritenendomi egeliano penso penso che non sia possibile leggere Mars se non cogliendone il lato che io definirei egeliano secondo secondo punto su cui andrei avanti perché questa dimensione pratica sperimentale non c'è e se andassi sulla metodologia della scienza direi vi direi degli altri autori ma se tu fai un discorso puramente diciamo così nella logica egeliana tu l'aspetto appunto pratico nel senso che io dicevo non lo ma tornerà dopo nel mio discorso un punto cruciale che non vorrei anticipare non lo non lo raggiunge questo mi porterebbe a contestare una serie di punti specifici delle belle relazioni che mi hanno precedute le quali secondo me nella loro creatività pro-Aeric sono andate oltre Aeric e hanno attribuito ad Aeric una serie di tesi che io non ho visto Aeric non ha una distinzione tra feticismo e carattere di feticcio Aeric non distingue tra parvenza e apparenza come manifestazione fenomenica e se lo leggete in tedesco ma Breda ci sta molto attento a seguire questa roba qui vedete che proprio non c'è per lui sostanzialmente esiste adesso forzo un attimino ma per capirci esiste solo la parvenza la manifestazione fenomenica non tanto e tanto l'economia politica classica quanto l'economia marginalista o economics rimangono al livello per cui la realtà capitalistica si presenta in modo illusorio questo per quanto riguarda l'aspetto metodologico ha delle conseguenze l'aspetto metodologico sulle cose che sono state dette tommaso redolfi riva credo abbia parlato del universale reale forse tutti e due ma sicuramente lui e qui però se voi andate a pagina 337 338 del della teoria monetaria del valore quando si parla di denaro Eirich ha un problema il problema è che in Marx questo discorso sull'universale reale è talmente potente che nella prima edizione del primo libro del capitale Marx dice che l'equivalente universale il denaro è la ricchezza universale come individuo e come se questa è una citazione di Marx oltre e al di fuori di leoni tigri lepri e tutti gli altri animali effettivamente esistenti esistesse anche l'animale io nella traduzione ci metterei addirittura la maiuscola l'animale l'incarnazione individuale dell'intero regno animale e addirittura su questa linea voi dovreste leggere secondo me la tesi di Marx per cui nella merce c'è una parte sensibile che è il valore d'uso c'è una parte sovrasensibile che è il valore ma la parte sovrasensibile deve incarnarsi Marx dice no questa cosa non è accettabile questa parte sovrasensibile della merce non può esistere sensibilmente può essere solo designato da un oggetto sensibile allora questa è una rottura netta con Marx non è chiaro se Heinrich lo sappia fino in fondo ma secondo me questo è il Marx hegeliano questo è il denaro come cosa e deve essere una cosa consentitemelo di dirlo è una cosa che domina gli esseri umani allora questo è l'universale reale per Marx non è l'universale reale per Heinrich è legittimissimo che non lo sia però io credo che noi a questo Marx hegeliano dobbiamo stare attaccati e credo che questo abbia a che vedere con il carattere di feticcio cioè è una cosa che ha poteri sociali ma questo non è un'illusione è proprio come le cose sono vado vado un po' un po' secco eh cos'è l'illusione è pensare che la cosa che ha effettivamente questi poteri sociali in questa realtà sociale ce l'abbia in tutte le realtà sociali e come cosa naturale allora per fare l'esempio più facile anche se ci dovremmo restare di più Marx dice l'oro è denaro io vi aggiungo nel capitalismo ma il denaro non è oro non è che l'oro sempre abbia la proprietà del denaro allora in quel modo tu naturalizzi una relazione sociale specifica ci arriva Erika questo secondo me no questo è il feticcio allora visto che non abbiamo tanto tempo ve la metto così nell'entrambe le relazioni si è giustamente ricordato che per Eirich il valore ha a che vedere con le relazioni io non ho il tempo di dirvi perché secondo me sono grandissimi i capitoli di Eirich sui classici e sui neoclassici perché lui veramente li conosce ma le conclusioni che lui ne trae secondo me sono completamente sbagliate perché sono sbagliate perché il problema del leggere mettiamola così Eirich è bravissimo a dire di Marx ci sono ambivalenze qui ci sono ambivalenze lì poi legge Smith Riccardo Varras e loro sono autori non ambivalenti per cui dice ma guarda Marx dice questo poi vado a leggere davvero Smith e Riccardo e dicono tutt'altro ma il problema non è questo Marx come dice Eirich stesso non sta facendo storia dell'economia politica Marx sta facendo domande a ritroso cioè io ho un problema il valore è il plus valore e negli autori precedenti li vado a interrogare sul mio terreno se Marx non avesse fatto questo e se non ci fosse sul terreno di Marx la continuità Marx non avrebbe costruito la critica la critica dell'economia politica il punto quindi Marx per fare quello deve fare quella che io chiamo economia politica critica il problema è che una volta che questo dannato feticcio si è costituito e quindi c'è la dimensione delle cose e come si presentano tu ti chiedi ma dietro queste cose che tipo di relazioni ci sono perché questo è il punto di Eirich l'economia non vede le relazioni non sto a dire se è proprio vero non vede le relazioni Marx vede le relazioni sociali però ragioniamoci leggete Eirich e vi chiedete qual è la relazione sociale di cui parla la teoria del valore lavoro è una sola è la relazione tra soggetti scambisti sul mercato capitalistico in una dimensione monetaria è quella roba lì si capisce che i soggetti scambisti sono le imprese che scambiano sul mercato quello è relazione sociale è quella roba lì è vero? sì è vero ma sei sempre nella dimensione del feticcio Marx però c'è un altro problema c'è il problema della genesi di questo feticcio è lì quando tu dici relazione sociale ce n'è un'altra che è chiave nella costituzione del feticcio ed è il capitale come relazione sociale capitale lavoro questa in AERIC non è mai ma dico mai trattata adesso sono un po' banalizzante certo perché tu entri nella critica dell'economia politica all'inizio degli anni 70 non ti poni il problema io non posso non pormelo perché io la relazione capitale nel lavoro ce l'avevo nelle riunioni dove si discuteva cioè da dove viene la costituzione del feticcio viene da un altro aspetto senza il quale non c'è secondo me il valore per Marx e non solo non c'è il valore per Marx ma a me di Marx non me ne sarebbe interessato niente io ho studiato con uno che si chiama Claudio Napoleone Claudio Napoleone ha cambiato tante volte idee ha detto cose brillantissime ha detto cose discutibili ha detto anche qualche cosa che classificherei così amichevolmente come una 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 fesseria però c'aveva sempre una domanda su Marx che di nuovo non compare in Eirik veramente anzi come hanno mostrato i due relatori precedenti viene detto che forse non abbia senso ma perché mai il valore sia pure come espressione monetaria esibisce espone solo lavoro credo che di nuovo Tommaso l'abbia detta nella maniera più unita ma l'avevi detta forse anche tu all'inizio cioè il problema è come il lavoro si espone nella vabbè certo se tu sei un credente vai su quella strada lì io voglio sapere perché solo il lavoro e secondo me Marx questa domanda la pone nettamente e la pone per esempio nelle teorie sul plus valore discutendo con Bailey e Riccardo però la risposta più nitida io la vedo in questo quando Marx riconduce il valore al lavoro deve andare oltre e contro la teoria classica e lo fa distinguendo forza lavoro nei Grundrisse dicevo capacità lavorativa e lavoro vivo nei Grundrisse credo dicesse lavoro diuname in divenire ma se voi lo leggete bene vedete che in realtà non è una coppia ma è una terna di categorie perché c'è da tenere presente la categoria di portatori viventi di forza lavoro o anche come li chiama pure Marx forza lavoro vivente sono quei casi in cui tu guardi le traduzioni e vedi che fanno un po' di confusione anche i più bravi quando vedono forza lavoro vivente traducono solo forza lavoro non è la stessa cosa stiamo parlando di una società questa in cui i soggetti sono liberi ed eguali mi spiace che sia andato screpanti è una illusione certo che è un'illusione ma un'illusione molto potente perché non è mai esistita prima sono liberi ed eguali e però il capitale che acquista la loro capacità lavorativa gli deve estrarre il lavoro vivente e questa cosa non è per niente garantita questo è un problema sociale specifico di questa società solo come dice Marx si possono trovare anche le citazioni solo se tu guardi al momento della Genesi tu puoi capire come si costituisce il feticcio allora per me la teoria del valore lavoro è fatta di queste due cose vi ho detto che siamo quasi coetanei Eirich ed io questo significa che la letteratura e le discussioni in cui noi siamo vissuti sono state le stesse come succede a quelli che non vivono solo in Inghilterra che leggono solo gli autori inglesi e chi vuole uno deve leggere gli autori anche non della propria lingua e così via cosa cosa mi sono trovato di fronte io e pure lui una situazione in cui il marxismo come lo conoscevamo è andato a picco in Italia secondo me è andato a picco tra il 78 e l'83 negli anni 70 c'erano i neoricardiani e c'erano i marxisti marxisti prendiamo Napoleoni neoricardiani prendiamo Garegnani si sono litigati sulla trasformazione io adesso direi chi se ne frega ma allora non l'avrei mai detto ovviamente c'è quella roba lì che è l'oggetto sociale là fuori la lotta di classe ed è finita come finiva quindi all'inizio degli anni 80 i giochi erano fatti dice voi guardate gli scritti no perché fino all'83 tutti scrivevano su marx certo l'83 era il centenario dalla morte e così via ma se voi guardate dopo del marx dell'economia politica non gliene fregava niente a nessuno in Italia fuori sì e usciva la moneta usciva la dinamica e compagnia bella però Eriks è reso conto come io e qualcun altro dell'aspetto più interessante che marx formulava una teoria monetaria del valore è stato ricordato da entrambi i precedenti si dà il caso che io avessi pubblicato nel 1989 prima che l'espressione diventasse famosa un articolo che si intitolava teoria monetaria del valore lavoro siamo nello stesso orizzonte solo che ovviamente Eriks quelli come lui il lavoro non ce l'hanno più siamo in un mondo in cui come ha detto giustamente Tommaso il punto non è tanto l'espressione teoria monetaria del valore lavoro ma una teoria del valoriale tu l'hai chiamata del lavoro cioè che guarda al lavoro dal punto di vista del valore se tu vai su questa strada qui teoria valoriale del lavoro teoria monetaria ti rendi conto che nel processo capitalistico il valore così noi pensavamo si costituisce nella produzione immediata ma solo qualitativamente adesso non entro nel dettaglio perché non ci vorrei mettere ma l'espressione che ha usato Tommaso è stato si realizza nello scambio o meglio nella circolazione delle merci io direi forse più fedelmente rispetto ad Eriks viene all'esistenza esiste solo perché realizza significa che c'è qualche cosa di prima che poi si realizza lui a un certo punto c'è una nota dopo il capitolo sesto in cui dice d'ora in poi uso realizza non è corretto ma va bene perché il punto è guardate che il valore esiste solo nella circolazione il lavoro astratto esiste solo nella circolazione non ti sto dicendo che è creato prima ma esiste solo prima cosa c'è qualcosa di cui vittgensteinamente non posso dire niente è la dimensione concreta ma la dimensione concreta è incommensurabile non c'è società la società si costituisce solo attraverso le cose nella circolazione questa è la sua posizione c'era arrivati chi? allora a questo problema c'erano arrivati in Italia più o meno confusamente quelli che lavoravano con Napoleoni e in Francia alcuni che erano partiti da Susanne de Brunoff Benetti e Cartelier alla fine degli anni 70 Benetti e Cartelier giungono alla conclusione che secondo me è più coerente rispetto a quella di Erika dice no ma questo significa dire che ci sono due mondi il mondo della produzione di cui non posso dire niente e il mondo della circolazione in cui c'è lo scambio sociale e così via beh ma allora butta a mare il valore lavoro e ti tieni solo la dimensione monetaria Erika è un tentativo eroico ma secondo me alla fine non convincente di tenere insieme le due cose perché certo uno dice io definisco la scienza come conoscenza della realtà capitalistica e e vabbè questo da cosa si vede si vede dal fatto che nel suo libro sulla scienza del valore non si dice una parola dal capitolo 10 in avanti cioè quando si tratta di parlare di cooperazione divisione manufatturiera del lavoro macchine e così via non se ne parla perché non sono importanti certo che Enric pensa che sono importanti ma non stanno sul terreno della teoria del valore io invece penso di che cosa parla la teoria del valore parla della socializzazione del lavoro nella realtà capitalistica e cosa è socializzazione del lavoro nella realtà capitalistica due cose come due sono le relazioni sociali che contano la socializzazione ex post di lavori immediatamente privati le imprese capitalistiche organizzano i lavoratori collettivi come lavoratori che producono merci che dovranno vendere sul mercato e quindi è questa cosa qui socializzazione ex post contro cosa? contro denaro quindi si viene all'esistenza con il denaro ma è anche un'altra cosa è la socializzazione immediata a termine di Mars dei lavoratori dentro il processo produttivo capitalistico ma per essere socializzati dentro il processo produttivo capitalistico tu devi averli acquistati sul mercato del lavoro la compra vendita di forza lavoro allora che cosa è la relazione capitale lavoro è una cosa fatta di due parti compra vendita della forza lavoro sul mercato del lavoro e uso della forza lavoro nel processo capitalistico con in mezzo sempre i produttori viventi di forza lavoro e quando Mars parla dell'economia politica classica Smith e Riccardo nelle teorie sul plusvalore che operazione fa? a me non mi interessa se è vero quello Smith o è vero quel Riccardo dice Riccardo capisce perfettamente che lo scambio sul mercato del lavoro a questo livello di astrazione deve essere scambio tra equivalenti quindi la teoria del valore di Smith sarebbe una fesseria e quindi ha ragione in qualche modo Riccardo a criticarlo però si perde una cosa si perde il fatto che se io la relazione capitale lavoro non la esaurisco nella compravendita di forza lavoro ma la guardo anche nel processo produttivo e le due cose le tengo insieme mi rendo conto che il capitale sul mercato del lavoro paga la forza lavoro in termini uguali tra virgolette gli paga quello che gli deve quindi lavoro uguale contro lavoro uguale ma gli estorce più lavoro allora questa è l'operazione che lui fa lui si usa smith e riccardo l'uno contro l'altro dice che hanno ragione tutti e due e torto tutti e due e si costruisce la sua teoria del valore del valore lavoro allora se tu tagli una delle due dimensioni secondo me ti perdi marx è vero che il secondo lato è del tutto provvisorio in marx non è sviluppato come si dovrebbe ma è anche vero che se tu la prendi in questo modo tu ti rendi conto che i due mondi non sono proprio due mondi perché quando dici teoria monetaria del valore del capitale non devi guardare solo allo scambio finale nella circolazione delle merci devi guardare anche al fatto che nel rapporto capitale e lavoro non c'è solo la produzione immediata come pensano i marxisti ortodossi c'è anche la compravendita di forza lavoro e quello è un fenomeno monetario e quindi c'è una antevalidazione di qualcuno che dà i soldi alle imprese per acquistare i lavoratori e quel tipo di denaro non è necessariamente secondo me una moneta merce allora a questo punto tu ti sei spostato dall'orizzonte su cui discutono tutti i marxisti incluso Heinrich e sei in un mondo in cui stai analizzando si potrebbe dire anche quantisticamente una realtà che è un processo quindi stai costruendo anche mentalmente l'oggetto e quindi l'acquisto di forza lavoro è basato su aspettative di quello che sarà il processo ma questa cosa qui non è una illusione non è una cosa puramente ideale senza un contenuto sociale perché se le banche e le imprese non contano su una realizzazione effettiva del processo la cosa non partirebbe neanche non è che si parte dalla fine si parte dall'inizio e l'inizio è una aspettativa individuale degli individui di questo soggetto che è un fatto sociale reale potente a questo punto il lavoro salariato che entra nel processo lavorativo e che viene fatto lavorare è denaro in movimento e se vai avanti è denaro in movimento che diventa un oggetto che sarà scambiato sul mercato allora la mia idea è che se tu vuoi evitare la teoria dei due mondi come gli hanno detto educatamente Baccaus e Reichelt cioè i marxisti hegeliani eccetera devi introdurre cioè tu devi evitarla ma come lo fai secondo me lo fai andando oltre Marx contro Marx e ti vai a guardare una serie di autori che 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 non guarda o grossolanamente non capisce su Schumpeter dice mi spiace secondo me una massa di fesserie adesso amichevolmente che sono molto cioè Schumpeter bisogna saperselo leggere non è certo la cosa la cosa che dice che dice Heinrich non ci sono relazioni nell'economia politica caspita se in Keynes non ci sono non ci sono relazioni allora Heinrich è molto lucido ma non guarda una serie di realtà se tu vuoi andare oltre Marx e contro Marx secondo me ti devi confrontare con questa letteratura con lo stesso coraggio di Heinrich ma forse di più nel senso che questi sono i temi da affrontare era stata fatta una domandona a cui io credo di avere dato una risposta sostanzialmente la domanda era la domanda era quella sul valore lavoro corretto io credo di averla data però ce n'è un'altra si è in sala prego se si vuole avvicinare e mentre attendiamo la domanda della sala giro anche una domanda che invece è arrivata sul canale social da Antonio da Prato ci chiede alcuni critici della teoria del valore lavoro sostengono che nel mondo moderno caratterizzato da economie basate sulla conoscenza e settori del lavoro sempre più automatizzati il valore lavoro sta perdendo la sua centralità come si sarebbe approcciato Marx davanti a questa condizione contemporanea la tecnologia l'innovazione e la complessità dell'economia contemporanea stanno rendendo difficile collegare direttamente il valore di una merce alla quantità di lavoro impiegato nella sua produzione questa è la prima domanda e ora chiederei al signor guardi buonasera a tutti io vengo a dirvi due cose la prima è che venerdì prossimo all'occupazione di via del leone comincerà un gruppo di lettura del primo volume di Marx quindi avremo occasione di tornare insieme su tutti questi bei temi appunto diciamo passo passo ci metteremo tre o quattro mesi per la settimana prossima venerdì 5 e mezza all'occupazione di via del leone vicino piazza Tasso c'è da leggere l'introduzione quella del 1857 rileggendola in questi giorni ed è da qui che viene la mia domanda osservazione c'è il primo capitolo di questa introduzione dove si parla appunto di produzione circolazione distribuzione e scambio come di un processo come sappiamo dialettico che va diciamo dal dal collettivo della produzione fino all'individuale del consumo appunto individuale ora ci si vede bene un qualcosa di ciclico diciamo in questo schema partendo diciamo da appunto semplicemente da questa che è una banale annotazione tipica di Marx su appunto su quanto poi le categorie abbiano tutto un legame dialettico tra di loro a me sembra che ci sia una tendenza anche un po' gonfiata dalle necessità accademiche anche di mercato editoriale a voler separare delle parti di Marx tra di loro farle affrontare dire che c'è un primo Marx che dice una cosa un secondo e ne dice un'altra tanti hanno fatto diciamo quello che Althusser diciamo lo schema classico è quello di Althusser poi ce ne sono stati tanti altri che hanno fatto un'operazione simile su questo mi verrebbe da dire che chiaramente nessuno è qui a fare i processi storici a Marx però c'è un'unità irriducibile nel pensiero di Marx che nel senso io non vorrei ritrovarmi come come mi sembra che facciano tanti tanti marxisti a criticare diciamo ciò che c'è di più hegeliano in Marx attraverso la stessa critica che Marx fa a Hegel così come non mi vorrei ritrovare appunto ad accusare Marx di aver recuperato l'opera degli economisti classici appunto quando è proprio Marx che ci consente di muovere una critica nei loro confronti mi sembra che poi alla fine appunto ci si vada sempre a perdere su delle questioni un po' così un po' frammentarie in un certo senso vi vorrei chiedere diciamo nel panorama intellettuale di oggi che cosa ne pensate di questa cosa di questa constatazione se siete d'accordo grazie vi ricordo gli incontri in Via Deleone venerdì prossimo la constatazione cioè tu chiedi sull'unità sull'unità perché direttamente allora sono due o tre domandone se c'è quella di Giorgio Bellucci a cui non non ho non ho risposto Giorgio c'è ancora o è andato e la domanda da casa che hai già letto no allora io un po' anche per vivacizzare ho radicalizzato alcuni dissensi da Heinrich se ho fatto questo libro è perché penso che sia un classico un un capolavoro e spesso ci azzecchi per dirla un po' allora una cosa su cui è bene capirsi secondo me è che il lavoro che si esprime nel si esibisce si espone nel nel valore non è un particolare tipo di lavoro perché quella è una dimensione appunto concreta da un certo punto di vista incommensurabile e che il valore come il lavoro nel valore e lo stesso valore non sono immaginabili nella merce singola credo che lo abbiate detto forse tutti e due sicuramente lo ha detto Sebastiano è un punto su cui insiste molto Heinrich credo che qui ci possa essere una solidarietà anche con Fineschi il discorso sul valore ha a che vedere con il mondo delle merci ah Eric qui tutta una serie di parti non solo io ma anche i relatori sono state purtroppo messe da parte noi ci siamo concentrati sulla teoria monetaria del valore ci sono i capitoli diciamo così c'è un capitolo su alcune categorie centrali della teoria del capitale e poi c'è il capitolo sulla crisi entrambi sono secondo me dei piccoli gioiellini quello che emerge secondo me però chiaramente da tutti i tre capitoli messi insieme è che tu il capitale lo devi analizzare in una dimensione sociale questa dimensione sociale ha a che vedere con il capitale totale versus capitale individuale cioè Eric critica la vecchia nozione su cui io ero stato educato all'inizio del capitale in generale e dice che in realtà a livello del capitale come libro la distinzione è capitale totale sociale e capitale individuale questo a me francamente funziona funziona molto allora che cosa vi direi vi direi che il discorso di Marx vale per qualsiasi tipo di lavoro quindi non è legato a una fase storica particolare non è legato al lavoro manuale eccetera il discorso di Marx è tutte le merci che vengono prodotte hanno un valore d'uso la parte sensibile e hanno una parte sovrasensibile che è appunto il valore come potere universale di accesso alla ricchezza di questa società però questa parte sovrasensibile questa secondo me la tesi di Marx è inafferrabile nella merce singola Marx secondo me la chiama valore intrinseco per essere afferrabile deve uscire da sé e possedere qualcos'altro che è una merce che è la merce denaro voi vi chiederete ma ci siamo trasportati in un romanzo gotico sì è esattamente questa la storia la storia è il valore intrinseco è un fantasma per venire all'esistenza deve possedere in qualche modo un corpo io a livello del mondo totale delle merci questo corpo lo intendo come il valore monetario aggregato più precisamente il neo valore espresso monetariamente ed è lì dentro è questa unità e ricchezza sociale che poi si ripartirà secondo un sistema dei prezzi ma non toglie che quello è il valore è valore riconducibile al lavoro per la ragione che vi ho detto nasce dal consumo dei portatori viventi di forza lavoro nasce dalla spremitura della forza lavoro vivente per usare il termine di Massimiliano Tomba che poi si distribuisce attraverso la moneta questo se ci fosse Giorgio Bellucci mi darebbe la possibilità di rispondere alla questione Sraffa Marx io avrei detto la stessa cosa che dici tu vent'anni fa trent'anni fa poi sono andato a leggermi gli archivi e l'idea mi è cambiata perché una cosa è quello che noi capiamo dai testi di Sraffa che notoriamente sono molto criptici un'altra è come leggerli attraverso quello che si capisce dal suo percorso intellettuale allora lui non si voleva porre il problema di Marx lui ha sempre pensato che il valore fosse quella roba lì e lo sfruttamento fosse quella roba lì il suo problema era controbattere alla critica su un punto particolare che aveva a che vedere con la determinazione dei prezzi e lo fa facendo vedere ad un certo punto proprio all'inizio di produzione di merci a mezzo di merci che l'insieme del neovalore ai prezzi è uguale alla quantità di lavoro diretto che è stato prestato nell'anno paradossalmente è la stessa cosa che vi ho detto io è scritta lì sono il paragrafo 10 e il paragrafo 12 senza nessun commento a me arrivò nel 1990 all'università un manoscritto di un lavoratore tecnico della Siemens che era ormai credo andato in pensione Dario Preti che aveva fatto tutto un discorso di un centinaio di pagine su Mars leggendosi 5-6 autori pochi Napoleoni Pasinetti Lippi Sraffa e un altro paio e si era ricavato alcune conclusioni molto simili ad una lettura temporalista di Mars ma aveva detto guardate che la teoria del valore in Sraffa c'è a me mi è entrato da questo orecchio e mi è uscito dall'altro perché sto discorso sulle due equazioni che io eguaglio le merci e i prezzi alla quantità di lavoro ma questa è una questione di unità di misura non vuol dire niente poi ti vai a leggere secondo me le duemila pagine e ti rendi conto che forse c'era un ragionamento e da dove me ne sono reso conto dal fatto che io trovo in un punto centrale di questa ricerca di Sraffa nel 1940 novembre lo hanno preso era scoppiata la guerra a luglio giugno-luglio era scoppiata la guerra l'hanno messo all'isola di White lui doveva andare De Vivo la racconta più o meno così e si porta due libri quanto starò via poi forse non è proprio così ma raccontiamola così perché perché fa colpisce di più visto che sto via e non so quanto cosa mi porto due libroni guerra e pace è il primo libro del capitale si rilegge il primo libro del capitale e fa un commento che l'uso della nozione di plus valore e se tu lo leggi cioè quando io mi trovo all'archivio fa lo stesso discorso tradotto nel mio linguaggio che vi ho fatto io cioè il capitale si acquista i lavoratori li sfrutta è il capitolo quinto in italiano e poi il capitolo diciassettesimo li usa però gli estrae la stessa quantità di lavoro vivo di quello che è contenuto nei mezzi di sussistenza non c'è plus valore però i prezzi sono proporzionali alle quantità di lavoro contenuto i capitalisti dicono no ma come io ho fatto questo ho fatto quello Marx fa un po' di teatro e poi dice no ma il capitale i capitalisti mica sono stupidi li hanno comprati perché sanno che li potevano far lavorare di più quindi c'è un prolungamento della giornata lavorativa è tutto il contrario di quello che dicono spesso marxisti sicuramente non marxisti che il plus valore da cosa nasce da una riduzione o deduzione dal valore prodotto no così il salario si riduce e emerge il profitto no nasce da un prolungamento della giornata straffa queste cose le sapeva quindi io lì ci vedo l'origine di quelle due equazioni e l'idea che il punto di Marx è la costituzione dei dati da cui tiriamo fuori i prezzi allora tu mi dici devo scegliere l'uno o l'altro straffa ti avrebbe detto non devi scegliere l'uno o l'altro perché chi sono io cioè Mick gli fa una recensione molto positiva nel 60 e chiude dicendo i due economisti Marx e straffa e lui a Mick gli scrive io ti ringrazio della bella recensione però la parte finale è un po' ridicola cioè io non mi ci ritrovo no perché come dire cioè lui da questo punto di vista è sempre stato molto modesto aveva ragione questo non definisce nulla possono avere ragione gli straffiani quello che ti voglio dire è che il mio straffa è uno straffa molto più modesto nelle sue pretese e molto più utile per noi le due domande che sono state fatte sull'unità c'è ancora il ragazzo che è intervenuto sull'unità comunque molto semplice adesso arriviamo sono molto d'accordo in due minuti chiudo sull'unità sono d'accordo con quello che ha detto Sebastiano secondo me di nuovo forzando rispetto ad Eirik perché secondo me Eirik vede una rottura molto netta è vero che dice alcune cose dopo si potrebbero rileggere in altro modo io forzo questa roba qui cioè io credo che se leggi Mars da marsologo c'è la rottura tra il 45 e il 57 però io farei lo stesso operazione di prima cioè lo leggerei a ritroso cioè non si capisce il Mars del capitale o dei Grundris se non si vede che una serie di categorie sono la riformulazione nel nuovo campo teorico di problemi che c'erano prima e l'altra domanda no le fate tutte allora ce n'è una velocissima con un minuto di risposta che è c'era lui che continuava ad alzare la mano ma non interviene lui alzi sempre la mano però non parli ci sono un minuto prego era sopra allora nell'ultimo momento abbiamo la domanda che ci verrà fatta e in più sinteticamente cosa dice Heinrich della crisi sì arrivo anche lì sopra in definitiva c'è qualche contraddizione nel concetto di valore di Marx a me pare che sia lineare che il fatto che la funzione classica cioè di lavoro incorporato che però viene fuori soltanto nel momento dove sta finché l'ho preisolato non è un errore di scambio ma è un errore di l'uso poi se tanto con gli altri diventa tutti i valori di sé la questione corrente c'è invece qualche cosa di contraddittorio c'è qualcosa per cui per esempio credo il mio liberista abbia pensato e abbia detto che c'è soltanto il prezzo c'è l'altro tra la domanda e l'offerta devo essere velocissimo allora la tesi di Heinrich e anche la mia è che sì la categoria di valore in Marx è contraddittoria poi entrambi per ragioni diverse pensiamo che queste contraddizioni possono essere superate rimanendo sostanzialmente fedeli al nucleo ideale fondamentale di Marx che però vediamo un po' diversamente perché lui ha una relazione una relazione sociale quella tra capitali io ho la relazione sociale tra capitali che capisco solo con la costituzione dell'altra era cosa dice Heinrich della crisi allora non posso scusa è stato detto prima e c'è il libro da leggere cosa dice della crisi è il capitolo nono settimo ottavo nono nono è il capitolo nono che è molto bello è un capitolo in cui lui ricostruisce dice le varie teorie della crisi e sostanzialmente smonta radicalmente la teoria della caduta tendenziale del saggio di profitto sostenendo con molte ragioni non so se abbia ragione ma con molte ragioni che Marx nel capitale primo libro del capitale l'avesse già superata io sono molto simpatetico all'idea che la caduta tendenziale del saggio di profitto in una sua forma canonica non stia in piedi da sola diversamente da Heinrich io credo che però in un'ottica oltre Marx si possa sostenere che quella tendenza faccia parte di una analisi più complessiva del fenomeno della crisi dopodiché Heinrich analizza la crisi ovviamente non considera la crisi da rapporto sociale lavoro capitale perché non c'è come ho detto nel suo discorso ma invece molto sensibile al problema della crisi derivante dalla insufficiente realizzazione tra virgolette del valore e fa una mossa in avanti secondo me rispetto a Suisi cioè lui si rende conto di tutti i limiti di una teoria della crisi sottoconsumista e muove molti passi verso la tesi che a me cara di una teoria della crisi da domanda per sotto investimento io la tradurrei come teoria della crisi da domanda per insufficienza di una domanda autonoma qualsiasi domanda autonoma va bene e come dico sempre io dei miei maestri Graziani ma ancora di più Napoleoni ho appreso l'ammirazione per i nemici di classe i teorici nemici di classe e il capitale stesso e quindi non vi stupirete che negli anni 90 io sono rimasto a un certo punto sorpreso perché proprio non me l'aspettavo che il capitale si fosse inventato per rispondere alla tendenza alla crisi una domanda autonoma che mai avrei immaginato la domanda per consumo indebitato derivante dalle dinamiche dei mercati finanziari è una domanda autonoma come le esportazioni nette come la spesa dello Stato in disavanzo e così via dopodiché e chiudo su questo il punto secondo me veramente importante di quel capitolo è che Eric dice guardate che Marx all'inizio crede ma poi si convince che no la crisi non si può analizzare allo stesso livello di astrazione del capitale perché include un elemento di storicità inevitabilmente e beh io questo lo apprezzo perché va verso il mio tentativo di mescolare crisi con un qualche elemento di storicità rimanendo possibilmente a un livello di astrazione rigorosa però è chiaro che insomma è di nuovo un testo che magari può non convincere non piacere del tutto ma il mio punto è che questo libro dopo 50 anni è per la prima volta un libro problematizzante che attraversa tutto Marx e fa conoscere anche letterature non note a noi non solo a Eric ma letterature note grazie mille un ringraziamento davvero a tutti i nostri ospiti di questa sera e un grazie anche a voi che ci avete seguito da casa diciamo e speriamo di poter continuare il nostro filo rosso sulla su quella che è la teoria marxiana e la sua rilettura per i prossimi incontri grazie grazie per i resistenti grazie a tutti